Buonasera e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando del carnevale di Acireale. Questo pomeriggio tutti in maschera per il giovedì grasso, le sfumature della festa e gli appuntamenti in programma per i prossimi giorni. Sentiamo Mario Grasso. Il giovedì grasso, per tradizione, è il giorno in cui il carnevale entra nel vivo, anche quello di Acireale, che oggi dedica e si dedica ai più giovani, con la sfilata delle scuole in maschera, il pomeriggio giovani, che a sera si tuffa negli anni 90 per ospitare in piazza Duomo il DJ che in quegli anni fecero saltare in musica le discoteche siciliane. Dicevamo della sfilata delle scuole in maschera, che nel primo pomeriggio ha animato il circuito legando i colori e la freschezza della manciullezza al carnevale. Il carnevale è importante perché il carnevale fa parte delle nostre tradizioni. Poi i ragazzi lo inseriscono in un progetto più grande sulla sicilianità. Ma il giovedì grasso è anche il giorno del trionfo culinario e della pasticceria più dolce che ci sia. Maccherone al ragù a pranzo, questo è il piatto forte del giorno, e poi le dolcissime mascherine di carnevale, una delizia che solo la pasticceria acese sa regalare. Sì, la maschera di carnevale, questa qua è cioccolato a biscotto come riccio e poi noi facciamo questa mascherina assenzata col rummo e viene un bel dolce delicato che le persone stanno andando abbastanza forte. E' ricercato sia dagli acesi ma anche da chi non è originario del Cireale, no? Certo, i forestieri di più perché vedendo queste cose li apprezzano con tanto piacere. Il carnevale ad Acireale prosegue domani con il concorso dei bambini in maschera e a sera con Ballando a Carnevale sarà banda delle scuole di danza acesi. Sabato mattina torneranno a sfilare gruppi in maschera scolastici, mentre nel pomeriggio i sei cari allegorico grotteschi, tre di categoria A, tre di categoria B, riillumineranno con i colori gioiosi del carnevale la sera che precede la grande domenica dell'allegria. Buon carnevale ad Acireale, promosso dalla Fondazione Carnevale di Acireale e dal Comune. E rimaniamo sempre ad Acireale dove si registra il tutto esaurito in occasione del più bel Carnevale di Sicilia. Tante le prenotazioni anche dall'estero. Sentiamo Salvo Cutuli. Alberghi pieni ed albergatori soddisfatti, bene anche B&B affittacamere. Il carnevale ad Acireale funziona e fa tirare un sospiro di sollievo agli operatori del settore di una città a forte vocazione turistica, almeno sulla carta, ma da sempre in forte affanno. Tutto esaurito in quasi tutte le strutture cittadine. Il prossimo martedì, giornata di chiusura della manifestazione carnascialesca. Quattro giorni di pernottamento muovono denaro e aprono uno spirale in occasione della parentesi primaverile con la parata dei carri infiorati, numeri che lasciano ben sperare per la stagione estiva. Altra parentesi in cui il Carnevale agostano gioca un ruolo non secondario. Allo studio una nuova formula al momento top secret. Turisti italiani e straniere, in aumento i tedeschi tra i più interessati alle nostre bellezze architettoniche e alla bravura dei maestri artigiani della carta pesta e dei carri infiorati, confezionati con migliaia di gherofani, peraltro peculiarità esclusiva tutta accese. Anche quella là è stata una mossa azzeccata, cioè di dare già sin da oggi nelle brochure la possibilità di sapere il turista quando noi faremo il Carnevale di primavera, quello dei fiori. E anche quella là è stata, come dicevo prima, un'ottima programmazione. Chi l'ha fatta, l'ha fatta bene. E già abbiamo delle prime premutazioni proprio per il Carnevale dei fiori, quindi veramente bene. Numeri alla mano dunque, la formula nuova del Carnevale inverno, primavera, estate è un ottimo attrattore, un'iniezione di fiducia del comparto alberghiero, solita base per costruire percorsi turistici appropriati e in grado di muovere l'economia cittadina, magari in combinazione con l'Etna, la vicina Taormina, l'organizzatissima Siracusa e le altre località escursioniste dell'isola, con siti di interesse nazionale ed internazionale, che forse sfugge a molti, ma come riconoscimento unesco siamo alla pari con l'Egitto, un dato che da solo rende l'idea del potenziale inespresso dell'isola. Il Carnevale di Ecireale e le manifestazioni adesso collegate spingono tutto il settore ricettivo con ricadute positive in bar, ristoranti e ritrovi. La soddisfazione di Santo Primavera, titolare dell'hotel Maugere, storica struttura in centro città. Direi ottimamente bene, abbiamo avuto un grandissimo riscontro. Quest'anno per la prima volta siamo andati oltre quelle che sono le Alpi e l'Italia, siamo riusciti a dovere anche dei gruppi da Francoforte e da Hannover. E poi, come al solito, tantissimi che sono arrivati dalla Campania, dalla Puglia, e tantissimi siciliani che vengono dalle zone del Palermitano. Ottimo direi. E sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania oltre 1.750.000 articoli di carnevale illeciti e prodotti contraffatti. Denunciato un imprenditore cinese, titolare del negozio all'ingrosso nel comune di Gravina di Catania, maschere, costumi, accessori e gadget vari, erano privi dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale e in alcuni casi riproducevano illecitamente loghi e soggetti riconducibili a personaggi dei cartoni animati e fumetti in boga tra i più piccini. Le merci principalmente destinate ai bambini sono infatti risultate carenti e in alcuni casi assolutamente prive delle specifiche avvertenze sulla sicurezza dei giocattoli. E lascia il carcere dove era detenuto dal 2 agosto dello scorso anno Pietro Capuana, 74 anni, accusato di avere abusato di minorenni, ritenuto il santone della comunità di Lavina da Cibonacorsi. Il Tribunale del Riesame gli ha concesso gli arresti domiciliari. A presentare ricorso era stato il suo legale, Mario Brancato, che aveva impugnato la decisione del GIP Anna Maria Cristaldi, che aveva confermato gli arresti in carcere per Capuana anche dopo l'incidente probatorio, che ha cristallizzato le testimonianze delle presunte vittime. Resta ancora pendente il ricorso contro l'ordinanza cautelare in carcere emessa dal GIP Francesca Cercone, che è stata annullata con rinvio. Capuana ha già lasciato il carcere di Siracusa. Gli arresti domiciliari ci sono ancora le tre donne ritenute sue fiancheggiatrici. Pietro Capuana fu ritenuto a capo di una setta pseudo-religiosa con manipolazioni psicologiche nei confronti di ragazzi minorenni che sarebbero state plagiate e convinte a donarsi all'Arcangelo. Adesso parliamo di emergenza rifiuti in Sicilia. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza in tutta l'isola e in provincia di Palermo per il settore idrico. A chiederne il riconoscimento con l'attribuzione di poteri straordinari era stato il presidente della regione nello Musumeci. Lo scorso 18 gennaio, nel corso dell'incontro con il premier Paolo Gentiloni a Palazzo Chigi, nella seduta odierna il governo ha deciso di nominare Musumeci commissario delegato per un anno e il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti soggetto attuatore. Cambiamo argomento, adesso parliamo di Sant'Agata, un bilancio positivo della festa. Adesso c'è attesa per l'ottava di lunedì. Una macchina organizzativa ben oleata ed efficiente, nessun incidente né problemi di rilievo sul piano della sicurezza, lungo il percorso del Fercolo e in Cattedrale, dove si sono sperimentate per la prima volta le nuove misure antidisordini della Circolare Gabrielli. Positivo il bilancio tracciato dal presidente del Comitato per i festeggiamenti e numero uno dello staff di Enzo Bianco, Francesco Marano. Ordine e compostezza, questo è l'elemento principale. Poi c'è stata davvero un'enorme partecipazione, nonostante alcune ore di pioggia, in particolare il 5 sera, però poi si è recuperato il 6 mattina, il 4, veramente tantissime persone. Più nel dettaglio a parlare sono i numeri. Segno più rispetto al 2017 davanti al 10% di passeggeri atterrati a Fontana Rossa e segno più innanzi alle 190.000 persone che hanno usufruito della metro, più che raddoppiati i biglietti acquistati in occasione della tre giorni a Gatina. E dalla mobilità alla viabilità, quest'anno tempi record per il ripristino della normale circolazione. Dalla sera del 6, cioè dopo poche ore che il Fercolo era passato da Via Caronda, Via Caronda è stata riaperta in sicurezza, ovviamente con delle restrizioni sui motocicli e sulla velocità. E già si guarda al futuro, tra gli aspetti da potenziare. La promozione all'estero, la terza festa al mondo potrebbe a buon diritto entrare nella lista UNESCO. La riduzione dei tempi della processione resta l'unico neo. I fuochi del borgo sono stati un po' troppo in là nella nottata. Anche se Sant'Agata è rientrata in realtà prima dell'anno scorso in cattedrale. Insomma, i Ceri, i Ceroni hanno come sempre contraddistinto la processione del 5, hanno causato sicuramente un rallentamento. Insomma, su questi aspetti c'è da migliorare. Un bilancio positivo che ha registrato tuttavia qualche fenomeno di microcriminalità. Infatti, due borseggiatori sono stati bloccati dagli ispettori dell'antiborseggio della Polizia Municipale di Catania, impegnati appunto in un servizio di controllo durante le celebrazioni a Gatine. Un uomo di 61 anni è stato individuato il 4 febbraio lungo il percorso in Via dei Cappuccini. Gli ispettori notati i movimenti dell'uomo lo hanno fermato trovandolo in possesso di un'ingente somma di denaro, 340 euro, provento della sua attività di borseggio. E poi l'indomani, durante il giro del Fercolo, il giro interno in Vietnea, un uomo di 73 anni è invece stato sorpreso mentre sottraeva il portafoglio ad un turista maltese. Parliamo adesso di cronaca sindacale. I vigili del fuoco di Catania in agitazione. Per loro un rinnovo del contratto nazionale che sa proprio di Elemosina. L'Unione sindacale di base dei vigili del fuoco non firmerà il contratto in discussione in queste ore perché ritiene che i vigili siano letteralmente vilipesi da un contratto che offende la dignità della persona prima ancora di quella del lavoratore. Il coordinamento nazionale vigili del fuoco USB non lo sottoscriverà dopo dieci anni di blocco e tre rinnovi saltati, un contratto che prevede, secondo gli stessi vigili del fuoco, delle vere e proprie Elemosine. In questa contrattazione si discuterà soltanto del contratto 2016-2018. Cioè tutto il resto verrà spazzato via. L'inflazione programmata non verrà calcolata. Stiamo parlando di miseria. Stiamo parlando di miseria. 85 euro l'orde che verranno al netto circa 65 euro. La specificità di cui si parla è finanziata soltanto per il 2018. Ricordiamo che in questo contratto non si sta parlando di e-mail. Cioè noi se ci facciamo male dobbiamo andare a spendere soldi di tasca nostra. Non si sta parlando della categoria altamente e particolarmente usurante. Il vigile del fuoco che anche per un giorno sale sulla squadra operativa diciamo che può rischiare il tutto in quel giorno. Ricordiamo Piazza Palestro che c'era un allievo vigile del fuoco permanente e ha perso la vita in quell'occasione. Noi vogliamo diritti. Vogliamo diritti che sono lesi. Noi resteremo in piazza a protestare. A Villa San Giovanni, a Messina a breve giorno 13 torneremo con una manifestazione. Il 23 saremo accanto alla scuola e alla sanità per rimarcare queste sceleratezze che il governo attua continuamente. Noi vogliamo la nostra professionalità. A tutt'oggi ancora non abbiamo preso i soldi del G7, degli incendi boschivi di questa estate, degli straordinari. Noi vogliamo le nostre economie. Le nostre economie sia per tutti i lavoratori che anche per dare sicurezza alla popolazione. L'USB rivendica invece aumenti salariali adeguati al costo della vita, pensioni di anzianità adeguate al lavoro usurante, assicurazioni inail per gli incidenti sul lavoro, ma i più precari vestiti da volontari. E a Giarre ci sono anche i neturbini in agitazione perché lamentano ritardini i pagamenti degli stipendi. Risponde l'amministrazione comunale che annuncia che si sta muovendo in tal senso e anche l'installazione di occhi elettronici per beccare chi scarica rifiuti senza rispettare le regole. Sentiamo Daniela Cantarella. Agitazione e disordini preannunciati dai neturbini di Giarre. Incroceranno le braccia il prossimo 16 febbraio gli operatori ecologici in protesta per un ritardo negli stipendi. Solo nelle scorse ore, lamentano i lavoratori, è stata percepita la mensilità di gennaio. Un ritardo che però il sindaco Angelo Danna ha subito motivato con problemi di natura tecnica riguardanti la tesoreria, il cui servizio è in proroga in attesa che l'ente emani il nuovo bando. Io intanto mi auguro che questo sciopero possa essere revocato anche perché da parte del Comune si è fatto quello che era nelle nostre possibilità, il nostro dovere, quello di fare il mandato di pagamento alla ditta perché possa pagare gli stipendi ai lavoratori. Questo è avvenuto già da una decina di giorni. Purtroppo problematiche di natura tecnica legate alla tesoriere, alla banca che gestisce un po' i nostri conti probabilmente stanno ritardando l'accredito delle somme già stanziate in favore della ditta. Questa cascata sta producendo i disagi, però è chiaro che nel momento in cui auspichiamo da un momento all'altro questi problemi tecnici si superano, non solo i lavoratori avranno lo stipendio che già è stato, ripeto, incanalato e è stato effettuato il mandato, ma noi ci attiveremo perché si possa rapidamente anche effettuare quello relativo al mese successivo. Quindi la questione economica speriamo veramente che da qui a pochissimo possa essere superata. La principale richiesta dell'UGL è che i pagamenti siano in regola entro il 15 di ogni mese. Di questo parleranno il prossimo 1 marzo. Il sindacato è il primo cittadino d'Anna, convocati all'Ispettorato del Lavoro a Catania, ma il sindaco si mostra fiducioso su una soluzione in largo anticipo rispetto a quella data. Il mio auspicio è assolutamente sì perché le richieste, ripeto, possono essere soddisfatte sicuramente in tempi più brevi rispetto alla data del 1 di marzo. Poi se tra l'azienda e i lavoratori sussistono altre problematiche di natura economica, contrattuale, eccetera, questo attiene proprio al rapporto diretto, contrattuale e al rapporto di lavoro tra le due parti. Intanto le energie del Comune si concentrano sulla lotta contro le microdiscariche e gli sporcaccioni che abbandonano i rifiuti in giro per la città. Proprio questa mattina il sindaco D'Anna ha emanato un'ordinanza per annunciare che l'intero territorio comunale sarà videosorvegliato. Le telecamere fornite dalla Dasti saranno impiantate non appena si risolveranno i problemi tecnici di incompatibilità con le apparecchiature a disposizione del Comune. In tal senso voglio dirvi che proprio oggi ho adottato un'ordinanza sindacale con la quale tutto il territorio comunale viene dichiarato sottoposto a videosorveglianza. Quindi sia valendoci di telecamere mobili da collocare sia in area pubblica che anche in zone private autorizzato ovviamente dai proprietari degli immobili noi cercheremo di colpire proprio questo fenomeno e intensificare anche il controllo con le sanzioni. Comunque questo Comune negli ultimi mesi ha elevato oltre 40 multe e queste multe sono state recapitate ai destinatari e quindi con la videosorveglianza questa funzione di controllo continuerà. Io ovviamente rimango sempre dell'idea che è un problema prevalentemente di educazione e di cultura quindi noi dobbiamo in qualche modo spingere perché la gente è sempre più si attivi a fare correttamente la raccolta differenziata che è un bene sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista di tutela dell'ambiente. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato il latitante Concetto Piterà, 41 anni, di Catania. L'uomo raggiunto da un ordine di esecuzione per la carcerazione emessa dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello Etnea deve espiare una pena di 3 anni, 6 mesi e 13 giorni di reclusione per estorsione con l'aggravante mafiosa per aver agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà derivanti dall'appartenenza alla cosca dei cursotti milanesi. Piterà irreperibile dal 22 giugno 2017 in quanto evaso dagli arresti domiciliari è stato bloccato mentre era a bordo di un arenotto Ingo priva di copertura assicurativa nel rione di San Berillo Nuovo a Catania. E ancora una notizia. Un incendio dalle vaste proporzioni si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi nelle pertinenze di una acciaieria sullo stradale Passo Cavaliere alla zona industriale di Catania. Non si conoscono ancora le cause del rogo alimentato dalle forti raffiche di vento. Sul posto hanno operato diverse squadre dei vigili del fuoco di Catania. Parliamo adesso di emergenza abitativa. Un incontro stamani tra l'assessore Fortunato Parisi e i sindacati di categoria. Sentiamo. 250 alloggi popolari e 10.000 case di privati rimaste sfitte. Sono le due strade parallele intraprese dal comune di Catania sull'emergenza abitativa che riguarda circa 4.000 famiglie. La novità è che questa mattina nella sede dell'assessorato alle politiche sociali si sono presentati anche i proprietari di sindacati degli inquilini assenti all'ultima riunione. Questa è la proposta dell'assessore Parisi. La presenza delle associazioni dei proprietari in maniera tale da poter stabilire con loro la possibilità della stipula di un contratto di affitto concordato. Avere degli affitti con quella cifra del bonus. Avere degli affitti ad un prezzo calmierato. Nel contempo si lavora con l'UACP, l'Istituto Autonomo Case Popolari, ma i primi alloggi e il librino non saranno pronti prima del 2019. Capiremo meglio i tempi della consegna di questi locali al comune di Catania e poi attraverso il PON poter ristrutturare anche questi alloggi. E la cabina di regia per l'emergenza abitativa valuta anche la disponibilità dei beni confiscati alla mafia. Locali, chiamiamoli così, che possono essere utilizzati solo per le emergenze. Intanto restano nei locali della chiesa di Sant'Agata al carcere, dove si sono trasferiti prima della festa, gli occupanti senza casa e lavoro di Librino e San Giorgio. Va al commissariato per firmare il registro dei sorvegliati e la polizia lo arresta. Aveva con sé 90 grammi di marijuana, protagonista un gambiano di 24 anni, è successo nel commissariato centrale di Catania, dove l'uomo si era recato, indagato in stato di libertà. In qualche giorno addietro, per reati in materia di stupefacenti, l'uomo si è presentato presso il commissariato per adempiere alla prescrizione dell'obbligo di firma. Durante la perquisizione sono stati trovati 86 grammi di droga e in una scarpa aveva invece una somma di denaro. Ad Acicatena, ex assessore del comune, ricorre al TAR dopo il recente avvicendamento in giunta. Agata Maiorca si schiera contro il sindaco Nello Oliveri. Sentiamo. L'ex assessore del comune di Acicatena, Agata Maiorca, ricorre al TAR contro il sindaco Nello Oliveri e contro la decisione del primo cittadino di rimuovere la stessa Agata Maiorca dall'incarico assessoriale a fine dello scorso anno, dopo nemmeno sei mesi di assessorato. Tutto questo si basa anche perché in sei mesi un assessore non può fare proprio nulla. Anzi, io con sette, otto deleghe che avevo ho fatto tantissimo cose che magari assessori per cinque anni non fanno proprio nulla. E quindi cos'è? Si prende in giro la gente, la cittadinanza. Non è un problema di poltrone, ma noi dobbiamo dare conto a un nostro paese dove noi ci siamo spessi e cercare di fare qualcosa di più. Quindi il ricorso si basa su queste e su tante cose che poi saranno in fase giuridica, che saranno loro a decidere, saranno gli avvocati a difendere. La Maiorca ha proposto ricorso a mezzo degli avvocati Ausilia Abramo Patanè e Giuseppe Foti dinanzi al Tribunale Amministrativo di Catania per l'annullamento della determina del 29 dicembre di revoca dell'incarico assessoriale. I difensori contestano la validità e l'efficacia dell'atto sindacale, adottato con arbitrarietà, senza alcuna motivazione e senza il rispetto della continuità di gestione amministrativa. La notifica del ricorso è stata già protocollata alla Comune di Acicatena. L'atto è stato assegnato dall'amministrazione comunale all'ufficio legale. E adesso il nostro appuntamento con l'intervista. Stasera faccia a faccia tra Filippo Romeo ed Emiliano Abramo, candidato a sindaco della città di Catania. Ben trovati in nuovo appuntamento con l'intervista. Ospite quest'oggi in studio il presidente della comunità di Sant'Egidio, Emiliano Abramo, qui in una veste diversa, quella di candidato a sindaco di Catania. Ben trovato? Ben trovato a te Filippo, buon pomeriggio a tutti gli amici che ci seguono quest'oggi. Una candidatura annunciata qualche giorno fa, di cui già si discute. Parliamo di come nasce questa sua iniziativa intanto. È un'iniziativa che in qualche modo è il frutto della mia esperienza con Sant'Egidio, ma in realtà è il frutto del dialogo con tanti pezzi della città di Catania ed è anche la risposta a un interesse e la politica che ho avuto per la mia modesta persona. Io mi sono sempre preoccupato della città. Vedo una città con grosse difficoltà e credo poco nell'operato dell'attuale amministrazione. Penso che invece bisogna dare un colpo di coda, provare a mettere sul tavolo un progetto che con rispetto vuole essere alternativo, ma vuole essere proprio una proposta per le tante componenti della città e per la buona politica. Una discesa in campo che segue due proposte importanti avvenute nei mesi scorsi. Prima quella del presidente Crocetta, che la voleva nella sua giunta, poi quella del sindaco Bianco, che la voleva nella sua giunta. Proposte entrambe rifiutate. Come mai intanto? Io ho ringraziato sempre sia il presidente Crocetta, anche il sindaco Bianco, ma anche rispetto alle politiche, le realtà che mi hanno chiesto anche di una disponibilità per una mia candidatura alla Camera. Io ho scelto di rimanere a Catania, come altri della mia generazione, convinti che bisognava impegnarsi in questo contesto. Le scelte di Crocetta e di Bianco non le ritenevano per me valide, ovvero mi sembravano una proposta di entrare in un governo che non stava facendo bene quello regionale di Crocetta, soprattutto in temi per me importanti come quello del welfare, altrettanto, e per quel che riguardava la giunta Bianco. Quindi ho ringraziato entrambi, ma non mi sembrava serio aderire a un discorso che non era più credibile. Lei in conferenza stampa la settimana scorsa ha detto bisogna cambiare rotta, perché dove sta andando Catania? Beh, è una città che si trova sull'orlo dell'abisso a mio punto di vista, ovvero è in una condizione di predissesto finanziario, il passo successivo appunto è il dissesto e questa è la condizione economica. Non mi sembra che nella scelta di spalmare il debito, per esempio, che la città ai prossimi 20-30 anni ci sia un'intelligenza, mi sembra che c'è una grave mancanza di rispetto per le generazioni future, e quindi mi colpisce i giovani, i giovani, i giovani, ma noi il debito lo stiamo mettendo sulle spalle di chi oggi non andrà a votare, di chi oggi ancora non è nato. Insomma, chi è quel bravo padre di famiglia che al proprio figlio lascia debiti per 20-30 anni? Non è uno stile accettabile. Poi c'è il tema dei rifiuti, città è gravemente sporca, i servizi, per non parlare delle periferie che a me stanno particolarmente a cuore. Insomma, il quadro complessivo della città non credo che sia un quadro orroso, è il cambio di rotta non solo è auspicabile, è necessario, e quindi sono convinto di trovare in questo percorso altri interpreti che la pensino come me e seguono un progetto che è una proposta per tutti. Abramo, presentandola, dicevo, questa candidatura fa già discutere, ma ha anche ricevuto tanti consensi. Sì, io non mi aspettavo per la verità una simpatia e un entusiasmo così largo, lo dico con grande umiltà. Ho visto un mondo giovanile, ma anche tante realtà piccole, medie e grandi imprese attenti, la stessa stampa, ha visto, apprezzato e ha avuto simpatia nei confronti di questo progetto e anche un certo interesse della politica. Insomma, forse c'era veramente bisogno di un progetto di questo tipo, o civico, sono contento che la città risponda. In generale, non solo perché mi trovo coinvolto in prima persona, ma perché è effettivamente un segno di una città viva, una città che forse non si sentiva pienamente rappresentata e quindi creare uno spazio, un contenitore per queste idee era opportuno. La sua è una candidatura fuori dai partiti, ma che si rivolge a tutti. Conta di abbracciare anche parti del centro-destra? Assolutamente. Io non credo che il tema sia più centro-destra e centro-sinistra, ma le regioni in qualche modo ci consegno uno schieramento del tipo presentabili e impresentabili. E allora l'idea di un progetto civico, altamente qualificato, nelle componenti che ne fanno parte, significa appunto un'opertura a tutta la politica, quella chiaramente dei presentabili. Quindi non vi è preclusione alcuna, né al centro-destra né al centro-sinistra, ma è un'operazione di buonsenso. Non è il qualunquismo. È un'idea di governo su alcuni contenuti, su un programma che stiamo definendo con gli alleati che abbiamo già incontrato e con quelli che incontreremo. Insomma, un atto di responsabilità per la città che non preclude nessuna parte che sia sana e collaborativa. Mancano ancora diversi mesi alle amministrative, si voterà in tarda primavera, ma qual è già la sua visione della città? Non parliamo ancora di programma, ma già uno schema di massima su quello che conta di realizzare qualora venisse eletto sindaco. Assolutamente. Innanzitutto, la prima cosa da fare è provare a creare una condizione di trasparenza sull'operato, in particolar modo economico, della nostra città. Quindi chi sceglie in quale contesto, chi è responsabile di cosa, quali sono i criteri, qual è effettivamente la situazione finanziaria. Insomma, evitare che vi siano stanze oscure, luoghi non chiari dove si prendono decisioni per tutti. E poi provare a rimettere mano al piano di riequilibrio, vedere se effettivamente riusciamo ancora ad evitare uno spalmamento del debito e magari provare a ragionare su quali sprechi si possono evitare e valutare eventualmente anche con la città quali sprechi invece siamo disposti a consumare. Magari ci fa di vivere un capodanno in grande e non in piccolo. Io non lo so, però deve essere chiaro, al di là dell'esempio, chi decide cosa e effettivamente la città cosa è disposta a fare e cosa no. Non può essere un'idea verticista. Un altro grande tema, chiaramente, è quello delle periferie sempre più abbandonate e magari riscoperte di fronte a una grande visita come per esempio in quest'ultimo periodo è stato quello del presidente Mattarella. Non sono più disposto a immaginare una città dove di fronte a un grande evento si alza il tappeto e si nasconde la sporcizia. Ma io voglio vedere una città che una volta spenti i riflettori, una volta che i flash non disturbano più lo sguardo, sia realmente pulita, sia realmente praticabile. Quindi legalità, trasparenza, periferie, piano di riequilibrio, patto con le generazioni presenti e future, sono alcuni dei temi che caratterizzeranno l'operato. La partita sicuramente non se la giocherà soltanto con Enzo Bianco, ci saranno anche altri candidati. Come vede lei questa campagna elettorale e soprattutto la sfida finale? Io credo che un nodo importante sarà il 5 marzo, ovvero l'indomani delle elezioni politiche. Vedo chiaramente un fermento nel centro-destra che ancora non ha individuato un candidato. Si fanno diversi nomi, ma sicuramente il centro-destra esprimerà un suo candidato. Io penso e mi aspetto una campagna elettorale molto rispettosa delle persone, basata sul confronto di contenuti. Questo perché è il mio stile, questo perché è auspicabile, questo perché secondo me è ciò che la città di Catania attende, non una rissa e non uno scontro, ma un pensiero che si sviluppa, visioni diverse della città, che a un certo punto verranno più o meno premiate della città. Da parte mia il dialogo c'è sempre stato con le tante forze della città, perché sono cresciuti in un mondo, quello di Sant'Egidio, dove il dialogo è alla base. Sono fiducioso che è la vera vittoria per la città avere un'amministrazione all'altezza delle sue aspettative. Ci sono risorse che si vogliono mettere in campo. Abramo, c'è stato qualcuno che le ha detto ma chi te lo fa fare? Sì, mi hanno detto in tanti. In tanti che però, e poi alla fine di questo ragionamento, mi hanno detto ok, però sono con te. Nel senso che è vero che c'è quest'idea di andare a prendere una gatta da pelare, Catania sta nelle condizioni che abbiamo brevemente descritto, ma è anche vero che c'è un'idea della politica che non è un luogo sano, dove le persone cosiddette per bene vanno volentieri. Io credo che le stesse persone che hanno detto chi te lo può fare saranno i grandi sostenitori e di questo progetto perché si rivolge proprio a quelli che non si vogliono rassegnare, che sono anche un po' disgustati da alcune dinamiche e che cercano un luogo nuovo con aria fresca da poter respirare. Abramo, grazie. Ci rivedremo senz'altro in questi mesi che precederanno le amministrative catanesi. Intanto le auguro buon lavoro, buona campagna elettorale, grazie a chi ci ha seguito da casa. Appuntamento con una nuova puntata dell'intervista la prossima settimana. Ben trovati. Non ci sono notizie o aggiornamenti rilevanti dell'ultima ora. Il nostro telegiornale si conclude qui. Vi ricordiamo il nostro sito www.reitv.it Vi lasciamo adesso alle previsioni meteo per la giornata di domani. A voi tutti il più cordiale e buon proseguimento di serata. Ancora bel tempo per quanto riguarda questo venerdì che precede il Carnevale. Un sole splendente su buona parte della Sicilia con qualche possibile annuvolamento. Calmi i mari. Le temperature. Otto, la minima 17, la massima a Catani. Anche se la medaglia della temperatura più bassa tocca a Enna con 2 gradi. Tutta la differenza. Tutta la sicilia. Tutta la sinistra. Tutta la terra. Tutta la alla distanza. Tutta la sottot tonight. Tutto la migra. Tutta la terapia si rezenta. Grazie a tutti.